Cari amici ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vitis, c'è davvero poco da aggiungere perché la giornata sarà caratterizzata da un ulteriore rinforzo su tutta la penisola italiana, quindi un'Italia unita diciamolo pure, nel segno del tempo tranquillo. Nel tempo tranquillo, bel tempo anche sul nostro territorio, certo come al solito in queste situazioni sui rilievi nel pomeriggio degli addensamenti nuvolosi, parliamo dei rilievi alpini, parliamo dei rilievi appenninici, poco cambierà con il rischio di qualche acquazzone, però comunque l'anticiclone si sta rinforzando e guardate cosa accadrà sul nostro territorio. C'è davvero poco da aggiungere e le temperature faranno un ulteriore saltino, un ulteriore balzo verso l'alto, poco, quindi temperature praticamente estive ma senza particolari eccessi. Bisogna ringraziare madre natura perché sino ad ora abbiamo avuto sì qualche picco di caldo, qualche valore un po' impazzito nelle settimane scorse, però tutto sommato siamo arrivati ai primi di giugno senza grandi caldi per ora, però comunque le temperature adesso sono assolutamente estive. Arrivederci!